Ciao a tutti, per chi non mi conosce, io sono Linda Trinchillo, cantautrice, artista di strada e ho una band, il Nineteen Spirit. E come potete immaginare dalla chitarra, mi sto preparando a suonare. In strada? Sì, ma non solo, perché a breve sarò anche ospite di una puntata di Disconote insieme alla mia band, il programma di Maurizio Casum dedicato alla musica, un vero e proprio spazio per gli artisti. Con l'arrivo dell'anno nuovo ci sarà anche la nuova edizione di Disconote, perciò se anche tu hai una band, suoni, canti e vuoi portare fuori la tua musica, perché non ti iscrivi? È gratuito e per una volta non è un talent, non c'è una votazione, non c'è competizione, ma c'è solo questa passione per la musica. Facciamolo crescere insieme questo programma. Ciao a tutti!